Che l'Unione faccia la forza non è solo un motto di saggezza popolare, ma oggi più che mai, con l'ulteriore rincaro dei costi dell'energia annunciato per l'ultimo trimestre del 2022, può essere una strategia di sopravvivenza contro il famigerato caro Bollette. La possibilità di organizzarsi in gruppi di acquisto per risparmiare comprando in maniera condivisa luce e gas, a cui stanno pensando molti pubblici esercizi, potrebbe essere la strada maestra da percorrere anche per i condomini, in attesa di soluzioni governative più efficaci. Giuseppe Cellini, amministratore di condominio e già presidente regionale della NACI, l'Associazione Nazionale di Amministratori di Condominio e Immobili, spiega quali sono le difficoltà da fronteggiare in questo momento. Noi abbiamo a che fare con dei preventivi e consuntivi, quindi ci troviamo ad applicare preventivi già approvate dai condomini, ma con non la realtà vera dell'importo in quanto sia la luce che il gas diventa un problema molto pesante. Devo dire che la mia associazione è molto presente in questa problematica, ha già organizzato un convegno proprio per le comunità energetiche e acquisto sociale diciamo insieme e vediamo cosa si può fare. Comunque certamente vedremo anche il governo cosa potrà fare perché avremo i bilanci tutti impassivi. Non riusciamo a portare avanti con integrazioni varie perché le famiglie sono già cariche e quindi è difficile far pagare il normale e poi l'integrazione eccetera. Per la realizzazione di gruppi di acquisto il problema principale è trovare un interlocutore tra le aziende fornitrici, considerato anche che le piccole stanno chiudendo, spiega il Tg8 Walter Vallese, ingegnere e collaboratore tecnico di Giuseppe Cellini. Abbiamo due problemi, uno è trovare l'interlocutore che voglia assumere uno sconto riguardo a un acquisto congruo di energia e l'altro è mettere d'accordo nella comunità quelli che sono gli operatori del settore, in questo caso gli amministratori condominali. Il problema è fare una massa critica tale che un'azienda possa essere interessata a praticare uno sconto. Sarebbe da lanciare un appello al governo che partecipa a due grandi aziende energetiche e magari potrebbero essere un interlocutore interessato soprattutto perché il governo potrebbe rinunciare a un po' di utili su quelle due aziende. Altro problema è quello della rateizzazione delle bollette. Particolarmente drammatico, io lo vedo per esempio quelle che possono essere le bollette del gas e chi ha il centralizzato. Il centralizzato comporta delle bollette particolarmente alte, quindi chiedere una rateizzazione di quella bolletta significa che se quella bolletta finisce su un'altra bolletta successiva. A lungo andare potrebbe succedere che il condomino non riesce a onorare i suoi impegni e con il problema che viene chiesto è la restituzione di tutta quanta la somma. Per trovare delle soluzioni si può pensare anche alle energie rinnovabili per rendere autonomi i singoli condomini? È auspicabile questo in generale che si faccia ricorsa alle rinnovabili. Il mineolico per esempio ha dei vantaggi, soprattutto che i condomini di fronte mare hanno un vento quasi costante da nord tutto quanto l'anno. Si può fare un mix, i pannelli fotovoltaici e il mineolico e poi con degli accumulatori può servirsi dell'energia che viene prodotto. Quella che volire in surplus si può rimettere in rete, quindi con notevoli vantaggi pure per gli altri.